SIGLA Eccoci qua, amici da sempre. Mi ricorda ancora il giorno in cui Emilio vide per la prima volta Nadia. Il resto anch'io non sono proprio normale. E infatti sei ciecato. Eppure cinesi. Ma perché sono cinesi? Ricco di famiglia, Ludovico, detto Alonso, ha solo due cose in testa. Il sesso e il sesso. Cazzo, vai! Anche Peppino, cioè alle boschi, è un talento incompreso. Ci hanno detto che hai degli acidi da paura. Ma che so, sti acidi? T'ho ghiaccioli, so ghiaccioli al limone. Ma il fiore all'occhiello della compagnia è franco, brillante, acuto, sveglissimo. Quindi io mi ero preparato benissimo su... Sì? Su che cosa? Ma in che facoltà siamo? Elegantissimi, intelligentissimi, genialissimi. Tanto che forse questo paese non ci merita. Ho vinto una borsa di studio. Vado a fare biomedicina, sai? Vado ad Oxford. Davvero che meccano! Sono un ragazzo inadeguato! Ragazzi, vi insegno una cosa. Dove c'è cultura, c'è sempre tanto fumo. Siamo a Oxford, ma vi rendete onto. Qua dobbiamo mettere la testa a posto. Capitano, vinciti, buono, eccellenze! Amen! Davvero che meccano! Noi siamo inseparabili, siamo come le team, come gli Avengers. Come i Boo! C'era Winnie dei Boo, che era una bravissima persona e un grandissimo artista. No! Gli occhi... What? Chiavi. Chiavi? Non finiamo neanche l'aperitivo? Sì, eh! Ma chi è quello? Nadia. Io non l'ho mai vista. Nemmeno io. Io vi guardo e ho molta paura. Otto cose. Ottimismo. 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 Grazie a tutti.